In questa Unione Europea ricordo che non avevamo in quegli ultimi anni un vicepresidente esecutivo, adesso ce l'abbiamo, con delle deleghe importanti in un settore dove già Raffaele Fitto ha mostrato le sue capacità, mettendo l'Italia al primo posto sui adempimenti relativi al PNRR, previsioni negative si sono rivelate tutte sbagliate, adesso non devono inventare un'altra previsione negativa che sarà sbagliata, anche quella.